L'intelligenza artificiale e quella generativa o altri tipi sono strumenti straordinari ma possono essere usati solo di aiuto all'uomo, non in sostituzione dell'uomo. Questo in ogni loro uso e in ogni loro passaggio. A scuola non si può utilizzare l'intelligenza artificiale per sostituire attività che normalmente fanno gli studenti perché devono prima imparare a farle e poi si possono farla aiutare. Cioè se posso utilizzare una macchina che mi aiuta a fare un'operazione, ma prima devo saperla fare, poi la macchina mi aiuta a velocizzarla, altrimenti vado a sbattere, altrimenti mi faccio male. L'intelligenza artificiale generativa è straordinaria perché permette, ad esempio, se tu vuoi scrivere un articolo su un tema, gli dai delle indicazioni molto precise e lui ti scrive l'articolo sul tema. Ma all'interno di quell'articolo ci saranno dei passaggi scritti con un tono che non ha prezzi, ci saranno delle informazioni magari sbagliate che solamente l'esperto che sarebbe in grado di scrivere quel pezzo da solo può utilizzare quello strumento perché è in grado di correggerlo. Se gli studenti imparano operando, come dire, cioè usando già direttamente la calcolatrice, senza tuttavia prima sapere come funziona dietro, quindi imparare a mano a fare delle somme, ma banalmente utilizzare l'equivalente della calcolatrice che ti dice già 2 più 2 uguale 4 e tu non hai mai fatto 2, 3, 4 perché sai solo che 2 più 2 uguale 4, hai una conoscenza del mondo parziale e siccome libertà e conoscenza e conoscenza e libertà non sei libero e soprattutto chi ti ha in mano non è più un altro uomo con le sue flessibilità ma è tecnologia, sono delle macchine che non controlli più, ma non perché si ribellano, non le controlli per come oggi ad esempio un non informatico non controlla quello che può fare un computer però capite che rimane sempre uno strumento cioè è come un uno che utilizza il trapano non è bravissimo utilizzarlo non sa cosa c'è dentro quindi può farsi più male o può usarlo peggio di altri ma quando la sua capacità lavorativa professionale relazionale è sostituita dal trapano cioè dal trapano in questo caso dall'intelligenza artificiale è dipendente da essa siamo già tutti dipendenti da qualcosa ok questo ci sta però non è che anche siamo dipendenti dallo smartphone non siamo in grado di parlare con le persone di relazionarsi con le persone al di là dei social network e dello smartphone ecco qui è come se nascessimo così per cui l'aspetto scuola e l'integrazione nella scuola in tutti i processi di apprendimento dell'intelligenza artificiale generativa può essere fatto ma tenendo conto di questo aspetto un po come viene introdotta la calcolatrice scuola nello stesso alla stessa stregua solo quando si ritiene che possa essere uno strumento per velocizzare alcune operazioni che tuttavia volendo si sanno fare questo è fondamentale altrimenti diventa pericolosissima per l'umanità 0 0 0 0